Buonasera telespettatori, nuovo appuntamento con Palazzo di Città, l'approfondimento politico a cura di Info Cilento che questa settimana torna ad occuparsi del caso Alfieri e non poteva essere diversamente perché nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità, cambia la misura cautelare, inferta al primo cittadino di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno, cariche tra i quali è stato però sospeso, va ai domiciliari che quindi sconterà presso la sua abitazione di Torchiara, le indagini comunque vanno avanti, ieri c'è stato il riesame, una lunga udienza alla quale erano presenti i suoi avvocati, udienza di riesame anche per gli altri indagati per i quali però l'istanza di modifica della misura cautelare è stata respinta, quindi sono tutti ai domiciliari. Noi ne parliamo questa sera con due colleghi giornalisti, innanzitutto un ritorno, Andrea Pellegrino che è il direttore dell'Ora, e Mario Cirillo che invece è il direttore di Agenda Politica. Buonasera, buonasera a tutti. Come sempre con noi in studio Bruno Mautone, ciao Bruno. Ciao Ernesto, un saluto alle spettatrici e agli spettatori di Infocilento. Allora, noi vediamo subito un servizio che ricostruisce che cosa è accaduto ieri, poi approfondiamo appunto gli ultimi sviluppi di questa inchiesta che ha portato all'arresto del Presidente Alfieri lo scorso 3 ottobre, quindi dopo quasi un mese è andato ai domiciliari. Vediamo il servizio. Al termine di una lunga giornata, nella serata di ieri, è arrivata l'ufficialità. Franco Alfieri, Presidente della provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio Pestum, cariche dalle quali è stato sospeso dal prefetto, lascia il carcere di Forni e va agli arresti domiciliari. Le voci di un'attenuazione della misura cautelare si erano diffuse già nel pomeriggio, ma erano state smentite dagli stessi legali. Poi, intorno alle 21.30, la notifica via PEC del provvedimento che ha confermato i rumors. Il politico di Torchiara resta agli arresti, ma lascia il carcere di Forni per scontare la misura presso la sua abitazione con i suoi cari. Alfieri era finito in carcere lo scorso 3 ottobre con l'accusa di aver favorito l'assegnazione di appalti pubblici ad una ditta mica che in seguito avrebbe subappaltato i lavori all'azienda di famiglia gestita dalla sorella Elvira. Gli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro, difensori di Alfieri, hanno sempre sostenuto l'innocenza del loro assistito, sottolineando l'assenza di prove concrete a suo carico. Ieri, nella lunga udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, hanno contestato l'utilizzo delle intercettazioni, messo in discussione la competenza territoriale del Tribunale di Salerno, ma alla fine la loro istanza è stata accolta soltanto in parte dai giudici. Alfieri lascia il carcere e va ai domiciliari, ma gli altri elementi evidenziati nel ricorso non sono stati presi in considerazione. Non hanno avuto lo stesso esito le richieste di misure alternative per gli altri indagati, anche loro restano ai domiciliari, tra questi la sorella di Alfieri, Elvira, e gli imprenditori Vittorio De Rose e Alfonso Dauria, rispettivamente titolare e procuratore speciale della Dervit. La Procura potrà ora fare ricorso in Cassazione, così come gli stessi indagati. Allora Andrea, subito con te, è stata una lunga giornata, il Riesame nella mattinata, poi questo rincorrersi di notizie, poi effettivamente è arrivata la notifica via PEC ai legali con Franco Alfieri che va ai domiciliari, vogliamo ricostruire proprio la giornata di ieri? Questa udienza diciamo che riguarda Alfieri, la sorella di Alfieri e gli altri indagati, ad eccezione di Campanile, la cui udienza si è svolta qualche giorno prima, diciamo noi tutti, già noi tutti non attendavamo l'esito già in serata, quindi è già stata una decisione presa, nonostante l'udienza sia durata tante ore, però presa subito probabilmente perché erano stati ricostruiti già tutti i passaggi e eventualmente i giudici avevano già ben chiaro cosa fare. Siamo rimasti spiazzati innanzitutto noi, ma reduci soprattutto dal tempo che era stato ipotizzato per una decisione su Campanile, l'ex staffista di Alfieri che è pure arrivato, quindi restano tutti quanti ai domiciliari, ieri sera la decisione, c'è stato un momento diciamo di concentrazione dovuto perché naturalmente materialmente non era stata notificata, nessuna PEC agli avvocati che erano intervenuti in udienza, però le voci già circolavano intorno alle 19.30, poi si è tutto confermato intorno alle 21.30, penso che già in serata Alfieri abbia lasciato il calcio di forni per recarsi nella sua abitazione a Torchiara. Si apre un nuovo scenario in parte perché viene attenuata una misura cautelare, penso che sia stato smussato qualche angolo relativamente all'inquinamento delle prove o all'interazione del reato, però da quello che ho capito l'impianto accusatorio della procura regge, così regge con la competenza territoriale che era stata eccepita dagli avvocati, in pratica perché reputavano che il reato si fosse consumato a Torchiara, quindi procura di Vallo della Lucania, così non è stato al momento, così come l'utilizzo delle intercettazioni penso che sarà poi oggetto di discussione in fase dibattimentale, semmai ci sarà il processo. Si aprono dei nuovi scenari, ma anche e soprattutto politici, perché la sostanza non è che cambia tanto, anzi gli altri indagati sono tutti ai domiciliari e restano ai domiciliari. Resta adesso l'ipotesi o della Cassazione e quindi con qualche elemento nuovo, oppure la conclusione delle indagini e semmai poi l'avvio o meno verso un processo. Nel mezzo attualmente reputo sempre che ci siano le dimissioni come atto, diciamo, che possa anche alleggerire ulteriormente la misura cautelare e consentire ad Alpieri di difendersi a questo punto senza l'ingombro delle cariche che ha, quindi da Presidente della Provincia e dal sindaco del comune di Capaccio Peston, perché altro non è che immagino, così come immagino che comunque ci sia un grosso problema politico al di là dell'aspetto giudiziario che riguarda proprio la tenuta delle amministrazioni di Capaccio, ma soprattutto quello della Provincia di Salerno, perché la Provincia di Salerno, quindi Palazzo Sant'Agostino, si interseca anche su vicende di respiro provinciale e anche regionali in vista anche del voto regionale. E più che una contrapposizione partitica, quindi con il centro-destra che attualmente sia a Capaccio Peston che in provincia di Salerno è completamente ancora, diciamo, non pronto, c'è un problema all'interno al Partito Democratico, soprattutto in provincia dove il fuoco amico è già bello che è azionato e dove ci sta, e dove si vive anche questo, diciamo, scontro tra la parte dell'Ughiana e quella del Partito Democratico. In questo momento il caso Alpieri ha una sua portata importante, diciamo, e determinante. Mario, tu sei addentro alle vicende politiche salernitane, ma non ti chiedo subito però di fare un'analisi della situazione sotto questo punto di vista. Ti chiedo prima invece che idea ti sei fatto relativamente a queste inchieste, relativamente alla posizione di Franco Alfieri? Sì, allora facciamo una premessa. Dal 2020, dal Covid, non c'è stata inchiesta che ha coinvolto in tutta Italia i colletti bianchi che abbia visto la carcerazione preventiva. Sin dall'inizio insomma la misura del carcere nei confronti di un presunto innocente, lo dico a norma di Costituzione e non perché voglia prendere le parti di Alfieri, insomma è sembrata subito una misura un po' esagerata. Credo che ieri il Tribunale del Riesame abbia riallineato un po' la posizione, tant'è che come Andrea in maniera brillante diceva, nella sostanza processuale non è cambiato nulla. L'impianto regge, tant'è che ci sono domiciliari per tutti gli indagati, era probabilmente eccessivamente afflittiva la misura nei confronti di Alfieri che ha fatto 28 giorni di carcerazione preventiva, adesso andrà ai domiciliari, poi c'è uno scenario legato anche alle scelte processuali, ci può essere ricorso in castazione, ci può essere anche la decorrenza dei termini dell'ordinanza stessa, ci potrebbe essere un fatto nuovo che interviene da qui alla castazione, da qui alla scadenza dell'ordinanza che possono essere ad esempio le dimissioni. Credo, a titolo personale, che Alfieri non si dimetterà, se non lo ha fatto finora non lo farà, c'è un problema però anche gestionale per quanto riguarda la provincia, è vero c'è il problema politico, diceva Andrea, e ci sarà ancora di più nelle prossime settimane, però c'è un problema gestionale perché la provincia così come ridisegnata dalla legge del Rio porta nella penna del Presidente poteri enormi, assoluti, il Consiglio provinciale è simbolico, cioè ratifica le decisioni del Presidente, il Presidente potrebbe tranquillamente approvare il bilancio di previsione, ricevere un voto negativo da parte del Consiglio e andare avanti, proprio perché il Consiglio prende atto ma non ha alcun potere, allora fino a quando si potrà mantenere la provincia nelle mani di Giovanni Guzzo, persona per bene, bravissimo amministratore, ma che non è un sindaco e soprattutto non è stato eletto dai sindaci come Presidente della provincia. Allora più che sul Comune di Capaccio io credo che il problema politico ci sia, come diceva Andrea giustamente, su Palazzo Sant'Agostino dove la partita, diciamocelo con franchezza, è tutta interna al PD, cioè è il Partito Democratico, anzi è Vincenzo De Luca che decide chi sarà il futuro Presidente della provincia, perché i numeri sono tali e tanti in provincia che il centrodestra, ma come anche altre forze politiche, immagino il Movimento 5 Stelle, non ha neanche la capacità di essere rappresentato. Quindi sotto il profilo processuale, premesso che ci sono i magistrati che stanno lavorando, gli avvocati che fanno brillantemente il loro lavoro, una fotografia dall'esterno sembra questa, cioè cambia nulla se non un riallineamento delle misure cautelari nei confronti di tutti gli indagati. Lo ripeto, dal 2020, ricordiamo il caso Toti, il sindaco di Avellino, non hanno fatto un solo giorno di carcere, sono stati sin dall'inizio agli arresti domiciliari. Ricordiamo che ieri con la notizia dei domiciliari, in tanti hanno in qualche modo anche esultato, ma più che altro per l'uomo, Franco Alfieri, che ha trascorso quasi un mese in carcere, che è sicuramente una condizione che per uno che non è un delinquente abituale, certamente è particolarmente complessa anche da vivere dal punto di vista umano. Alfieri resta in stato di arresto, va ai domiciliari, quindi avrà comunque l'opportunità di scontare questo periodo, questa misura cautelare in un ambiente più familiare e sicuramente dove diverso dal carcere. Ricordiamo però che nell'ordinanza con la quale era stato disposto l'arresto si parlava di una figura spregiudicata, capace in qualche modo di impartire ordine, ecco perché non era stata data inizialmente una misura alternativa al carcere. Bruno, tu sei stato sindaco di Agropoli, conosci la politica ma soprattutto sei avvocato, quindi puoi dare un'interpretazione al di là del caso Alfieri. Cambia la misura cautelare dal carcere, Alfieri va ai domiciliari, non indica nulla dal punto di vista dell'impianto accusatorio? No, secondo me indica qualcosa. Sicuramente se vi erano delle prove che non vi sono, in realtà così schiaccianti e così dirompenti, ovvero a pericolo di aggravio della condotta di Franco Alfieri è chiaro che permaneva il regime carcerario. Io per la verità se ricordi Ernesto già un paio di settimane fa qui da te, dedicando la puntata proprio al caso Alfieri, avevo sottolineato che per quando mi riguarda non vi erano le condizioni per una detenzione di tipo carcerario. Quindi devo dire che il provvedimento non mi sorprende, forse perché noi avvocati rispetto alla generalità delle persone sarà una caratteristica professionale, forse anche una malattia professionale, cerchiamo sempre di inquadrare le situazioni in maniera anche distaccata, tra virgolette, poiché non è un innocente che deve dimostrare naturalmente la propria innocenza, ma è l'accusa che deve portare elementi concreti per portare avanti delle misure così gravi e così estreme come quello della detenzione in carcere. È singolare che Franco Alfieri, che era il gran dominus insomma di tutta questa macchina di corruttela presunta e di turbative d'asta, sia allineato utilizzando un termine che mi piace e che utilizzavano i giornalisti prima, quindi sia allineato agli altri imputati. Quello che però non dobbiamo dimenticare è che il giorno dell'arresto di Franco Alfieri, anche taluni mass media e comunque a livello di commenti si diceva che quell'arresto era una sorta di antipasto rispetto ad altri scandali che avrebbero dovuto coinvolgere il presidente della provincia. Laddove per ironia della sorte, ad esempio per la Fondo Valle Calore e per altre infrastrutture di respiro provinciale, è stata una distinta e separata procedura che si è portato a delle emissioni cautelari nei confronti di tecnici, ma nulla nei confronti di Franco Alfieri e quindi fondamentalmente non concordo pienamente sul fatto che la posizione di Alfieri possa essere equiparata a quella dei funzionari, perché addirittura gli stessi funzionari e i tecnici a livello di province e collaboratori di Franco Alfieri sono incriminati in altre procedure nelle quali lo zambino di Franco Alfieri a meno finora non è emerso in sede di indagine e in sede di istruttoria. Io ritengo che gli avvocati faranno ricorso in Cassazione, faranno istanze in Cassazione per chiedere la cessazione degli arresti anche con regime di domicilio, insomma nel regime degli arresti domiciliari e ribadisco, il discorso è molto lungo, però ribadisco un concetto esaminando con attenzione le carte della procura, la pistola fumante contro Franco Alfieri non si riscontra. Vi è una serie di indizi, però gli indizi tra virgolette faranno parte di una battaglia processuale perché sicuramente ci sarà il processo e nello stesso tempo questi indizi non erano neppure talmente rilevanti poiché la procura ha dovuto chiedere la redazione di consulenza tecnica ad un ingegnere e ad un geometra, questo per riferimento a presunte turbative d'asta. Andrea Pellegrino, che cosa sappiamo sul fronte dell'inchiesta? Nei giorni successivi all'arresto di Alfieri e degli altri coinvolti c'erano state altre attività della guardia di finanza con verifiche al comune di Novivelia, una nuova attività anche a Battipaglia, oggi tutto si è fermato oppure sconfermi magari anche quanto detto nel nostro precedente incontro che scopriremo altro? Al momento penso che c'è questo filone aperto che riguarda la provincia che coinvolge anche il consigliere regionale Luca Cascun. Non so se al momento siano stati già ascoltati o verranno ascoltati dopo, penso Cascun e penso anche Lizio che è il dirigente del settore opere pubbliche della provincia di Salerno, così come i rappresentanti legali della COGEA Impresit che sarebbe l'altra impresa che è finita sotto i riflettori su questo filone di inchiesta che si aggancia sostanzialmente a quello principale dove il punto di contatto sarebbe Andrea Campanile che ha avuto un avviso di garanzia bis rispetto a quello precedente ma stavolta diciamo senza misura cautelare. Io leggendo le carte a Battipaglia dove diciamo l'ordinario di custodia cautelare sancisce il patto corruttivo c'è un'attività naturalmente che è legata all'acquisizione di atti, ho letto delibere quindi ho potuto ricostruire un po' il fatto ma lì diciamo al momento so che non ci siano indagati e non so se avrà poi un risvolto perché penso che diciamo dovrebbe essere il primo passaggio da chiarire perché se l'inchiesta si basa su questo fatto corruttivo quindi che l'alfiero impianti avrebbe avuto o ha avuto secondo le carte diciamo che ho potuto leggere un subappalto al comune di Battipaglia dopo che la Dervit si era giudicato l'appalto principale e nel frattempo questa Dervit aveva avuto un ulteriore appalto però questa volta senza una procedura di gara di un milione e mezzo per opere aggiuntive opere aggiuntive che erano state inserite in questo capitolato e quindi in questa perizia di variante grazie a un accordo, un accordo diciamo non accordo più precisamente un protocollo d'intesa tra il comune di Battipaglia e la provincia di Salerno dove la provincia di Salerno quindi attraverso Alfieri ma ancora prima c'era già un intendo anche tra la vecchia amministrazione provinciale e il comune di Battipaglia per concedere alcune aree provinciali e mi riferisco all'area soprattutto della Litorania al comune di Battipaglia per la pubblica all'illuminazione nuova e quindi per corpi illuminanti nuovi da integrare a quelli del comune di Battipaglia. Dopo un mese diciamo da questo protocollo d'intesa che viene sancito tra il sindaco e il presidente della provincia avviene il subappalto al Fieri Impianti che si aggiudica diciamo nuove opere per 250 mila euro circa. Questo è da quello che ho compreso ad oggi rileggendo anche le carte il nodo dell'inchiesta della prima inchiesta che riguarda diciamo Alfieri e gli altri indagati quindi la Dervit e non le opere provinciali e la terra dove si è praticamente concretizzato questo fatto è Battipaglia. A Battipaglia ripeto c'è stata solo un'attività della Guardia di Finanza che hanno acquisito carte così come sono stati acquisiti dei documenti a Novivelia dove Giovanni Cuzzo fa parte diciamo dell'amministrazione comunale, Giovanni Cuzzo è l'attuale presidente facente funzione della provincia di Salerno. Anche in questo caso la vicenda di Cuzzo si era intersecata con una presunta telefonata fatta dal carcere da Alfieri se ricordate diciamo qualche settimana fa poi pare che sia rientrata, sia ripoggiata anche un trasferimento di Alfieri presso altri istituti di pena ed è stato immediatamente smentito dalla procura. Anche a Novivelia al momento non risulterebbero nessuno indagato ma sono un'attività di recupero e di acquisizione delle carte. Non so se invece sono state ascoltate altre persone, probabilmente sì qualche altro esponente politico, amministrativo ma naturalmente come persona informata dai suoi fatti penso che ci sia ancora questa attività della procura in corso ma al momento non so che sbocco possa avere e diciamo che risvolti. Penso che sia ancora al vaglio della procura le nuove carte che sono state acquisite e questo altro filone che riguarda gli appalti provinciali. Ecco Mario, allora dal punto di vista politico dicevamo comprendere la posizione di Alfieri è importante sia per quanto riguarda il comune di Capaccio Pestum che soprattutto per quanto riguarda la provincia. Si è discusso molto sulla posizione del Partito Democratico, qualcuno ha detto già l'indomani dell'arresto con la convocazione del direttivo che poi ha portato la sua sospensione che Franco Alfieri di fatto era stato scaricato. Si parlava anche di De Luca che fino a un certo punto è rimasto completamente in silenzio di fronte alla questione, poi lo stesso De Luca invece è intervenuto chiedendo rispetto per l'uomo e di far lavorare la magistratura. Ma effettivamente il PD o comunque diciamo la coalizione come si sta muovendo di fronte alla situazione in cui si trova Alfieri? Allora è chiaro che il nome di Alfieri ha avuto una risonanza nazionale, il suo arresto, la sua vicenda giudiziaria e ai secondi a Roma. Mentre prima parlavi cercavo di intervenire, forse avevo il microfono staccato, la sospensione è stata richiesta direttamente dal commissario regionale Misiani, concordata con il provinciale è stata effettuata questa sospensione dal partito nei confronti di Franco Alfieri. Il nome è ingombrante, nel senso che anche per De Luca in questo momento delicato di rapporto già teso col Partito Democratico, la vicenda Alfieri, come anche la vicenda Zannini a Caserta, la vicenda di Cascone che riguarda poi la Fondovalle, non sono degli elementi che giocano a suo favore sotto il profilo politico. È chiaro che le indagini non hanno il tempo della politica. Ricordiamo che l'arresto di Franco Alfieri è stato preceduto a gennaio dalle perquisizioni che sono state effettuate al comune di Capaccio e in provincia, quindi l'attività di indagine tra valutazione degli elementi richiesta che vengono fatte poi al GIP ha dei tempi abbastanza lunghi, quindi quando gli intentanti ci dicono ma c'è altro, potrebbe anche esserci altro, ma in questo momento magari è al vaglio già del GIP, oppure c'è un fascicolo di indagine dove non ci sono ancora degli indagati, l'avvocato Mautone lo può tranquillamente confermare, le procedure per alcune parti restano secretate, non c'è la possibilità da parte del futuro indagato di conoscere gli atti e quindi questo per quanto riguarda la parte processuale. Sotto il profilo politico bisogna comprendere se Alfieri questa sua battaglia, che sicuramente sarà processuale, diventa anche politica. Il nodo è questo. Allora se diventa politica è chiaro che lui difficilmente si dimetterà, salvo che poi in provincia non si attivi la procedura che prevede comunque il voto, perché il provvedimento che il prefetto ha emesso il 4 di ottobre di sospensione ha una durata di 18 mesi, salvo che nel frattempo non intervengano altri fatti, contempio l'annullamento dell'ordinanza e quindi sostanzialmente il ritorno alla piena libertà da parte di Alfieri. Il provvedimento di sospensione non è un provvedimento di natura morale, ma è un provvedimento di natura giuridica, cioè dice poiché tu sei sindaco e sei presente nella provincia e hai l'impossibilità materiale di andare al comune di Capaccio e in provincia io ti sospendo. Al comune di Capaccio c'è la possibilità della reggenza del vice sindaco, credo, non conosco il saluto del comune di Capaccio, ma immagino che preveda la possibilità per il vice sindaco avanti. In provincia invece la procedura è diversa, ci sono 90 giorni dal momento della sospensione entro i quali il presidente facente funzione deve convocare le elezioni. Abbiamo perso Mario. Prima di sentire Andrea, Bruno, proprio dal punto di vista tecnico che cosa accade ora? L'indagine ha portato ovviamente alle misure cautelare, adesso si deciderà se eventualmente con l'avviso di conclusione di indagini mandare a processo gli indagati o eventualmente può esserci anche un'archiviazione. Ma no, io escludo assolutamente che vi sia un provvedimento di archiviazione, così come dicevo che erano estremi gli arresti anche domiciliari, che vi sia un provvedimento di archiviazione assolutamente escluso perché, ribadisco, non c'è la pistola fumante ma è tutta una serie di elementi, quindi sicuramente vi sarà il rinvio a giudizio per gli imputati. È interessante quello che dicevano i giornalisti, molto interessante anche per quanto riguarda l'istituto della provincia. È chiaro che questo mi induce a pensare che i colleghi che rappresentano e difendono Franco Alfieri faranno istanza in Cassazione in maniera tale che si possa rimuovere questo provvedimento di sospensione adottato in sede prefettizia, per la sede provinciale. È chiaro che se Franco Alfieri, da un punto di vista strettamente intimo e personale, non ha ritenuto di rassegnare le dimissioni, chiaramente ancora di più mi lascia pensare che l'attenuazione della misura estrema del carcere possa incoraggiare lui, anche chi lo rappresenta e lo difenda, ad andare avanti, ad intraprendere tutte le iniziative che possono salvaguardare la vigenza delle sue cariche politiche e amministrative. Andrea, non si è dimesso Franco Alfieri quando era in carcere, ora che i domiciliari sicuramente andrà a mantenere ovviamente i suoi incarichi in provincia e al comune da questo punto di vista, quindi per lui un primo dato positivo, come dicevamo, se non intervengono fattori esterni lui resta saldamente al suo posto a questo punto. Sì, diciamo che però il nodo cruciale politico al di là di Capaccio adesso resta la provincia di Salerno perché si intersecano altre situazioni soprattutto di carattere politico, c'è qualcuno che già vuole prendere il posto di Alfieri, ci sono stati dei contatti già in corso, una macchina che comunque si è avviata, anche con un piano B, un piano C e ci sono elezioni regionali e diciamo non penso che altri all'interno del PD consentano diciamo a un presidente facente funzioni di praticamente giocarsi la partita regionale con la fascia da presidente, valiamoci chiaro, si è ripotizzata una candidatura di Giovanni Guzzo alle regionali, naturalmente era col Partito Democratico, adesso considerata la guerra politica in corso con il Nazareno non so, ma comunque diciamo si parla di una candidatura di Guzzo, non so quanti del PD diciamo possano consentire nel caso di una lunga sospensione questa campagna elettorale con Guzzo presidente. a Capaccio è lì nella sensibilità dei consiglieri comunali naturalmente decidere se andare avanti o resistere e anche qui la partita è doppia, una politica è anche di prospettiva e l'altra riguardano i conti che a quanto ne sono non siano proprio floridi a Capaccio e che diciamo siano attenzionati anche dalla Corte dei Conti che necessitano un piano di rientro e la cifra si aggira da quello che ho letto intorno ai 42 milioni di euro e non è poco, quindi lì ho il singolo consigliere che poi deve decidere che fare e ma soprattutto che futuro immagina proseguire questa battaglia con Alfieri e giocarsi diciamo questa partita fino in fondo oppure sganciarsi prima e immaginare un futuro differente, anche se ripeto come ho detto in premessa io non vedo attualmente un'alternativa valida, quindi anche penso posso immaginare qualche consigliere che voglia resistere per non fare, diamo un classico salto nel vuoto e far commissariare il comune e poi ad aprile e maggio non sapere da che parte stare, quindi è una valutazione che forse a Capaccio va fatta diciamo nell'ambito della coalizione e nel suo complesso, mentre in provincia di Salerno il problema del PD e soprattutto dei Lugiani è abbastanza presente e come ha detto Mario lo sarà ancora di più, più giorni passano e più diciamo il problema sussiste e porto un dato, si è svolta comunque un'assemblea provinciale del PD qui la scorsa settimana e non c'è stato nessun accenno al caso Affiere, quindi questo fa significare che comunque è un terreno abbastanza pericoloso attualmente parlare del caso Affiere, anche tra le mura del PD a Via Manso, quindi non all'esterno, dove naturalmente è scontata la solidarietà da parte del PD Democratico, ma anche da parte di Vincenzo De Luca, ma poi all'interno dei palazzi penso che il clima sia tutt'altro anche da quello che so anche durante il Consiglio Provinciale che si è tenuto qualche giorno fa qualcuno diciamo immaginava o pensava a imminenti dimissioni, i domiciliari potrebbero naturalmente far resistere al fir in trincea. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo, salutiamo Andrea che deve lasciarci e continuiamo con Bruno Otone e Mario Cirillo, direttore di Agenda Politica. Tra pochissimo. Nella vita c'è una cosa che non smettiamo mai di fare, scegliere. C'è chi le sue scelte ha appena iniziato a farle e chi invece ha scelto una passione e le ha dato valore. Qualcuno vede i frutti delle scelte che ha fatto tempo fa. C'è chi avrà più scelte domani, perché oggi c'è chi sceglie per lui. Nella tua banca di comunità trovi una persona che ti aiuta a realizzare i tuoi progetti previdenziali e di investimento in ogni momento della vita. Scegli BCC. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Vengo anch'io. Sì tu sì. Ma perché? Perché da oltre 25 anni selezioniamo bontà. Perché ogni giorno sfornano gentilezza. Perché diamo peso alla qualità. E poniamo grande attenzione alla tracciabilità delle nostre carni. Perché risparmiare piace a tutti. Vengo anch'io. Sì tu sì. Ma perché? Perché MD. Buona spesa Italia. Ciao. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Se sei un dipendente o un pensionato della pubblica amministrazione e in famiglia una persona non autosufficiente e con un'invalidità di almeno il 67%, puoi rivolgersi agli sportelli attivi su tutti i comuni dell'ambito S9 per aderire al progetto dell'Imbus Home Care Frame e ricevere un contributo economico mensile fino a 1.380 euro e assistenza domiciliare. Grazie a tutti! 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 di proclamare le nuove elezioni. Quindi bisogna capire tecnicamente se queste due date consentiranno all'Alfieri di fare richiesta alla Cassazione di ottenere ovviamente una pronuncia dalla parte della Cassazione e alla provincia di rispettare la normativa di legge. Al di là di questo vi lancio una provocazione perché poi tutto ruota anche attorno a come dicevamo al fatto che Alfieri è un personaggio, passatemi il termine, politicamente ingombrante, cioè una persona che riempie tutti gli spazi politici della parte meridionale della provincia e non solo, ma oggi si riesce a immaginare un dopo Alfieri nel Cilento, si riesce a immaginare un dopo Alfieri nel PD della parte meridionale della provincia. Diciamo che al momento una figura della sua portata sicuramente non c'è e non vedo neanche movimenti in tal senso, anche se diciamo la verità, qualcuno che non dico è sollevato ma si sente un po' più libero da un condizionamento esterno continuo delle scelte, di alcune scelte politiche, lo iniziamo a intravedere da questo punto di vista. Bruno, invece parliamo dell'aspetto prettamente politico, prima abbiamo chiesto anche ad Andrea Pellegrino il futuro di Alfieri, le elezioni in Liguria di fatto hanno forse dimostrato che le inchieste in qualche modo non è che vanno così tanto ad influenzare l'opinione pubblica, che di fatto ha vinto un esponente di Cilento. Mi hai preceduto nel richiamo alle elezioni in Liguria, dove come è noto ha vinto Bucci per il centrodestra, nonostante lo scatafascio politico-giudiziario che ha posto fine alla parabola politica di Toti. È proprio così. Franco Alfieri ha conseguito il 90% di voti ad Acropoli, Franco Alfieri ha conseguito la stessa percentuale a Capaccio, è stato praticamente in maniera plebiscitaria indicato come Presidente della provincia da parte dei vari amministratori, con suo sistema stupidissimo che solo un politico cervellotico come Renzi poteva pensare, comunque è stato eletto in maniera plebiscitaria dai vari rappresentanti degli enti che hanno legittimità a votare il Presidente della provincia. Quindi Franco Alfieri è un politico capace, è un politico che ha fatto confluire sulla propria persona delle percentuali altissime, bulgare una volta si diceva, magari in Bulgaria si offendono, quindi delle percentuali bulgare e questo depone per il suo modus agendi, il suo modus pensandi, per la sua capacità di agire e di incidere da un punto di vista amministrativo. Quindi onore e merito. Certo che da un punto di vista politico il PD secondo me fa un autogol non solo attaccando in maniera diretta o anche diretta Franco Alfieri ma addirittura azzoppando, cercando di azzoppare il Presidente della Regione Campania De Luca. Io ritengo che è un Presidente che tra la luce ombre è molto competitivo elettoralmente e che se la CNA e il PD a livello nazionale e anche qualche burocrate a livello regionale come Ruotolo, che più che un giornalista, con tutti i rispetto dei giornalisti mi sembra un burocrate, sono contro De Luca, fanno un autogol perché il Presidente De Luca secondo me ha un seguito elettorale molto tangibile, molto corposo e quindi magari se ritengono di fare le stesse figuracce che hanno fatto in Liguria ben venga a mettere da parte De Luca e magari farà delle liste fai da te, ben venga a criticare un presunto innocente fino a prova contraria quale Franco Alfieri e che ha dimostrato di avere una catalizzazione elettorale mostruosa in senso positivo e quindi diciamo che il futuro dirà se questa inchiesta azzopperà o meno Franco Alfieri. Nulla toglie che lo stesso magari potrà continuare a far politica a prescindere dal PD con delle liste civiche o con dei movimenti alternative ai partiti tradizionali. Concludo Ernesto dicendo una mia valutazione. Secondo me Franco Alfieri che è un uomo autorevole ha peccato di ingenuità ma non è colpevole dei reati che gli vengono iscritti. Qual è l'ingenuità? È vero che c'è una ditta che fa capo a tua sorella che in un rapporto libero intersocietario ben può subentrare alla ditta De Rosa in regime di subappalto. Però l'ingenuità è questa è chiaro che non ti sfugge questo tipo di considerazione sarebbe stato opportuno far desistere la ditta della sorella dal subentro in subappalto. Beninteso io non ritengo illecito questo tipo di subappalto però lo ritengo inopportuno da un punto di vista politico amministrativo. Ecco Mario adesso ribalto su di te la provocazione qui nel Cilento praticamente non si muove nulla comunque sono tutti in attesa di conoscere il futuro di Franco Alfieri. Del resto diciamo quale spunto in un contesto politico dove c'è fermento dell'arresto di un sindaco di un'inchiesta di tale portata presidente della provincia per far ribaltare una situazione politica. Di qualche ora fa la notizia ad esempio di un comune della provincia di Frosinone dove il sindaco è stato arrestato per corruzione ed è stato subito sfiduciato considerato che lui non sarà dimesso a Ceccano. Qui invece tutto è in attesa, i vari enti sono in attesa, continuano nei limiti del possibile a lavorare. Una figura di fatto quindi che è stata identificata ma dagli stessi rappresentanti politici del territorio, spesso anche dai cittadini come il leader territoriale, quindi come colui che in qualche modo va a definire gli indirizzi politici del territorio. È questo che è oggi Franco Alfieri, però ti chiedo anche allo stesso tempo a questo punto dopo questa inchiesta qual è il quadro entro il quale può inserirsi Franco Alfieri? È condannato tra virgolette a fare sempre e soltanto il sindaco, ormai oltre non può andare? È una domanda difficilissima anche perché bisognerebbe conoscere anticipatamente l'esito dell'indagine, del procedimento, è complicato, stiamo ai fatti. Oggi c'è un territorio che ha un suo leader che si trova nella impossibilità di effettuare attività amministrative e politica. Quanto durerà? Come durerà? Neanche questo sappiamo. È chiaro che c'è un territorio in fermento, ci sono le regionali. Un piccolo inciso va fatto poi sul Comune di Capaccio perché il Comune di Capaccio credo che ieri abbia approvato il Consiglio, la delibera del predistesto. È così? Esatto. È così? Sì. Sì. Se non l'avesse fatto... Pronto? Sentiamo. Perfetto. Dico, se non l'avesse fatto ci poteva scartare il commissariamento. È così? Sì. Esatto. Perfetto. Nel 2025 non ci sono finestre elettorali per le comunali. Cioè il voto sarebbe stato spostato a marzo 2026 per il Comune. Quindi l'ipotesi di lasciare nelle mani di un commissario l'amministrazione comunale per un anno e quattro mesi credo che abbia anche, come dire, dato coraggio, oltre che una valutazione politica, ai consiglieri di maggioranza di Capaccio che hanno valutato anche questo aspetto. Cioè il voto sarebbe stato lontanissimo nel tempo e in politica insomma rimanere fuori dal palazzo per un anno e mezzo, per un anno e quattro mesi significa praticamente sparire. Ciò detto ed è una valutazione che riguarda il Comune di Capaccio. è chiaro che il Cilento deve avere anche un suo riferimento territoriale all'interno del Partito Democratico in regione Campania che è il partito di maggioranza. L'augurio è che ovviamente Alfieri possa chiarire il prima possibile la sua posizione e tornare a fare politica. Se ciò, ma l'auguratamente per Alfieri non dovesse accadere, bisogna riscrivere un pochettino gli equilibri del partito o anche del centro-sinistra, perché poi in quel territorio ci sono anche altri esponenti del centro-sinistra che oggi sono consiglieri regionali. Ricordiamo Tommaso Pellegrino, ricordiamo Corrado Matera che sono del Vallo di Diano, non del Cilento, però hanno dei rapporti e dei contatti con quel territorio. C'è poi l'ipotesi della candidatura di Giovanni Guzzo, lo diceva prima, anche lui, Vallo di Diano e non del Cilento, da Pesta Capaccio fino a Sapri, io non vedo personalità tali da poter sostituire in tutto e per tutto Franco Alfieri. Secondo te la spinta per un eventuale crollo, tra virgolette, di Franco Alfieri può arrivare solo ed esclusivamente quindi dalla politica, magari proprio da quelli che sono attualmente dei suoi alleati, più che diciamo dal popolo, dall'opinione pubblica, che dopo sentiremo anche in un sondaggio che abbiamo realizzato, resta comunque non soltanto garantista ma vicina dal piede. quando hai quei numeri come quelli di Capaccio è chiaro che il problema può essere soltanto interno, cioè può esserci una, come dire, un progetto alternativo che nasce all'interno di quella che è la tua maggioranza, perché se hai 15 su 16 come consiglieri colonali è chiaro che c'è un problema, può essere soltanto un problema di natura interna, però ritorno all'inizio, e quindi torno ancora una volta a parlare della provincia, molto dipenderà da quello che accade in provincia, perché è una situazione che per ragioni anche di carattere proprio amministrativo, oltre che politico, il PD non può mantenere in stasi, cioè deve a un certo punto avere una garanzia, chiamiamola così. Sì, ritorno Alfieri perché la Cassazione annulla l'ordinanza e lo rimette in piena libertà, bene, ritorno Alfieri, Alfieri continua a fare il presidente della provincia, se ciò non accade, rimanere con un facente funzioni, che tra l'altro non è neppure sindaco, perché Giovanni Guzzo non è sindaco, non può essere neanche candidato alle prossime provinciali, rappresenta un problema politico, perché c'è un consiglio provinciale a maggioranza PD, che è stato eletto da tutti i sindaci e che oggi chiede anche la possibilità di lavorare, è chiaro che con questa situazione, lavorare anche con Alfieri, perché poi tutti i consiglieri provinciali si augurano che Alfieri possa risolvere questa situazione, però la provincia ha delle competenze, un meccanismo, una copertura territoriale, un peso politico oltre che amministrativo diverso dal comune di Capaccio, quindi non lo so, potrebbe anche immaginare Alfieri di rimanere sindaco di Capaccio e di mettersi dalla presenza della provincia. Vedremo cosa accade, intanto andiamo a sentire il sondaggio realizzato questa mattina a Torchiara, che è il comune nativo di Franco Alfieri, avevamo già chiesto l'opinione dei cittadini all'indomani dell'arresto a Capaccio, però in quel caso la maggior parte di loro ha espresso solidarietà ed era convinta dell'innocenza di Alfieri. A Torchiara, a distanza di quasi un mese dalla misura cautelare, di fatto l'opinione è la stessa. Andiamo ad ascoltare il sondaggio che ha realizzato Angela Bonora. Gran brava persona, pur non ha seduto il suo partito, io l'ho votato qui. Mi dispiace tanto addissimo per la sua mamma, ma Franco Alfieri è una grande persona, rimane sempre un carissimo amico. Alfieri è Alfieri, poi io ne penso bene, non è niente di… è politica. Adesso che torna a casa sarà molto provato, molto… però noi siamo sempre con lui. Io sono stato 15 anni con lui, ho fatto il vice sindaco, figurato. È venuto a mangiare sempre a casa mia, che ero il Salvatore, il 6 agosto, questo è bravo. Ma dice che l'arresto domiciliare, speriamo che tutto finisca bene. Lui era stato grande, fatto chiaro che abbiamo fatto tante cose, scuole, edifici, caserne, abbiamo fatto tutto. E ci dispiace, è quello che possiamo dire, almeno sto a casa. E non ho mai sentito niente qua a Sant'Alduono, a Turchiara, a Agropoli, ma forse qualche partito di opposizione, questo o quell'altro, non so dirti. Ma politicamente io di politica non ne capisco, quindi no, no, però penso che sia una persona valida. È una brava persona pura. Penso che per il paese, per il comune e tutti i paesi limitrofi è stata una persona importante. Pienamente della sua innocenza e come persona per me rimane sempre, sia politicamente come persona, numero uno. Da oggi sarà a casa, agli arresti domiciliari, ma tra l'affetto della sua famiglia. Meno male, non ci aspettavamo altro, perché per me non meritava proprio essere messo in carcere. È una cosa ingiusta per me. Un signore, tutto il resto si vedrà. Da oggi tornerà a casa agli arresti domiciliari, ma tra l'affetto dei suoi cari. Perfetto, giusto. E la magistratura farà chiarezza all'ultimo. Il sistema che è stato scoperto, insomma, è da sempre, è stato sempre così, quindi è la norma, per cui credo che non ci sia nulla di nuovo all'orizzonte, se non il fatto che è venuto fuori. Però è da sempre, si sa che, meno male, lui era a disposizione di tutti, faceva tutto quello che era nelle sue possibilità. Ovviamente il cambio c'era il consenso politico, il consenso e il voto. Quindi è una persona, un ragazzo in gamba, bravo, che ha saputo farci. Quindi va bene che vada a casa, non c'era motivo di tenerlo in carcere. Poi la giustizia farà il suo corte. Ci auguriamo tutti che se ne esca in maniera che spieghi tutto quello che gli viene contestato. Bruno, tutto il ragionamento che stiamo facendo è racchiuso in una frase che ha detto uno degli intervistati, Alfieri e Alfieri. Alfieri è, come dici il cognome, uno degli Alfieri della politica cilentana e non solo. Ribadisco, per quanto mi riguarda come legale, proprio come avvocato, ritengo che non vi siano le condizioni per una condanna di frango Alfieri. Mario, ci avviamo alla conclusione. Un personaggio carismatico, soprattutto l'area dell'Astro Cilento, quella che si identifica anche nell'Unione dei Comuni che lui stesso ha fondato, ovviamente è quella più legata ad Alfieri. Un personaggio che ha fatto tanto, ma anche tanto controverso, perché ci sono state varie vicende che sono venute alla luce nel corso della sua carriera politica. Nessuna ovviamente lo ha portato a condanni, le inchieste non sono mai arrivate a termine in maniera negativa ovviamente nei suoi confronti, però è una figura discussa, ricordiamo la questione delle fritture di pesce, ricordiamo la mancata possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, proprio perché travolto dalle polemiche. Quindi in ogni caso un personaggio controverso, un personaggio carismatico, ma anche un personaggio che azzarda nella politica, ma anche in questo caso perché di fatto non era da tutti rimanere in carica in provincia e in comune dopo una misura cautelare così dura. Però hai detto anche un'altra cosa, una figura che probabilmente ha ottenuto dalla politica meno di quanto meritava sotto il profilo del consenso elettorale, c'è la vicenda della mancata candidatura, c'è la vicenda poi di quella candidatura alle politiche in un collegio particolarmente difficile, in un momento particolarmente difficile. Alfieri è stato sindaco di Tocchiara, di Agropoli, di Capaccio, è presidente della provincia, è stato assessore provinciale, però ecco il salto non di qualità, il cambio di territorio, cioè non ha mai fatto il consigliere regionale perché non è stato mai candidato, altrimenti credo che l'avrebbe tranquillamente fatto, non ha avuto la possibilità di andare in Parlamento perché in quel momento c'era una situazione politica un po' particolare, oggi credo che abbia 61 anni, se non sbaglio, confermate milita, che in politica non sono tanti, ma non sono neppure pochi, ha dei crediti nei confronti della politica sicuramente, ma per quello che riguarda ciò che guarda fuori dalla provincia di Salerno, le parole dei concittadini sono chiari, una persona di territorio, una persona che ha un legame viscerale con tutto il Cilento e che tutti i cilentani conoscono, ci ho detto questo, aspettiamo l'esito dell'inchiesta, dell'indagine, già con la pronuncia della Cassazione si può cominciare a ipotizzare un qualcosa di diverso, al momento c'è questa sua impossibilità, lo ripeto non entro nel merito dell'inchiesta perché non è la prima volta che assistiamo a indagini che poi si chiudono con assoluzioni, come diceva l'avvocato Mautone, abbiamo visto in Liguria, l'indagine che poi ha consentito la vittoria comunque del centrodestra, seppure con numeri diversi rispetto al 2020, perché è vero che non incide, ma è altrettanto vero che il centrodestra nel 2020 vinse con 14 punti di distacco, oggi i punti di distacco, i voti di distacco sono 5 mila, quindi c'è una bella differenza. Aspettiamo sicuramente e verifichiamo la prima cosa cosa accadrà, credo in provincia, perché lì si comprenderà un po' davvero l'atteggiamento che il PD della provincia, ma in generale, ha nei confronti di Franco Alfieri. Se Franco Alfieri non verranno convocate le elezioni provinciali vuol dire che sostanzialmente il PD non solo ha piena fiducia in Alfieri Uomo, ma ha piena fiducia anche in Alfieri Amministratore nel senso che ritiene che potrà tranquillamente dimostrare la sua innocenza anche già con la Cassazione, quindi con l'annullamento delle ordinanze. In caso contrario si aprono scenari diversi. Mario però tu conosci la politica locale come pochi, ti chiedo di fare un'ultima riflessione. Abbiamo detto che Alfieri non è riuscita ad andare oltre la provincia di Salerno, ma ci sono limiti suoi, c'è una congiuntura strale sfavorevole, o c'è qualcuno che lo ha utilizzato perché è utile, ma era utile finché è confinato in provincia di Salerno? Cosa insieme? Nel senso che ovviamente ci sono dei limiti non politici, ma caratteriali. Io credo che se Alfieri avesse lasciato il PD dieci anni fa oggi sarebbe parlamentare in qualunque altro partito, però non l'ho fatto. C'è sicuramente una parte del partito, anche pezzi importanti del partito campano che lo ritengono un personaggio scomodo, troppo autonomo e quindi l'autonomia in certi ambienti non paga, anzi diventa un limite, una virtù. E infine un pizzico di sfortuna perché poi nel 2018 quel collegio che tutti quanti consideravano possibilmente rosso, cioè con la vittoria del PD, alla fine è stato Alfieri, se ricordate bene, col suo risultato a garantire la elezione della Ferraioli, perché il Movimento 5 Stelle fu battuto, perché c'era Alfieri che reggeva, però c'era il centrodestra che ottenne insomma quello che doveva ottenere il 33%, se non ero, il 33-34%, che era una percentuale non utile a Salerno per esempio, non fu utile nel collegio maggioritario perché il 5 Stelle raggiunse il 41%, lì Alfieri con la sua forza ha arginato l'avanzato del 5 Stelle però ha fatto vincere il centrodestra, quindi anche lì un pizzico di sfortuna. Ripeto, se dieci anni fa Alfieri avesse cambiato partito oggi sarebbe sicuramente parlamentare, credo forse anche alla seconda legislatura. Grazie a Mario Cirillo, direttore di Agenda Politica, anche a te ovviamente nel salutarti vi volgo l'invito a tornare ad essere collegato con noi perché sei sempre attentissimo alle vicende politiche, quindi nessuno più di te può esserci utile in queste circostanze. Grazie Mario. Allora Bruno, abbiamo fatto un'analisi alla luce degli ultimi sviluppi, un'analisi anche politica, come abbiamo detto nella prima puntata dedicata ad Alfieri non può essere la magistratura a sconfiggere una figura politica del genere che se una fine dal punto di vista politico deve trovare, non può trovarla in questo modo. Quindi l'auspicio che dobbiamo fare è quello di una risoluzione breve del caso, anche se purtroppo la giustizia ci ha abituato a tempi che proprio brevi non sono. No, purtroppo no. I tempi della giustizia italiana sono lunghissimi, sono decisamente abnormi. E' anche vero, come abbiamo detto in più occasioni, che l'Italia ha il record mondiale delle carcerazioni preventive, il che è una vergogna, e oltretutto vi è un record di inchieste contraddistinte da arresti, quindi da misure veramente estreme, poi concluse con l'assoluzione degli imputati e con il risarcimento dei danni nei confronti di questi indagati e imputati che hanno conosciuto pure la misura del carcere, della detenzione. Questo purtroppo è un malcostume italiano e io spero che almeno nella procedura, nella inchiesta che sta coinvolgendo Franco Alfieri e funzionari e dirigenti della provincia, vi siano dei tempi ragionevoli, ma è più che altro una speranza, non una certezza. E sottolineo che ho letto con attenzione le oltre 100 pagine, che tra l'altro mi hai mandato tu a suo tempo Ernesto, relative... Non lo svegliamo, non lo svegliamo. No, va bene, ma tu sei un bravo giornalista, relative all'arresto di Franco Alfieri poco meno di un mese fa e sottolineo e pongo all'attenzione di tutti gli amici che ci seguono, effettivamente esaminando con attenzione quelle carte io non riscontro alcuna responsabilità di Franco Alfieri, tutt'al più una ingenuità perché doveva far desistere, doveva dissuadere la sorella e la ditta che fa capo alla sorella, dal subentro in subappalto nella gestione dell'illuminazione. Quindi io penso che l'ingenuità piccola politica rispetto alle capacità sempre mostrate da Franco Alfieri sia un peccato veniale e speriamo che a livello giudiziario si concluda a tutto e al più presto. Però ribadisco, ripeto, fino alla noia, è una speranza ma non è una certezza. I tempi delle procedure penali ma anche civili italiane sono le più lente di Europa e tra le più lente del mondo. In Europa solo Cipro è più lento dell'Italia. Forse più che il termine dell'iter processuale che eventualmente ci sarà dobbiamo attenderci una fine delle misure cautelari in modo tale da consentire, se non ci sarà una dimensione, comunque di proseguire il mandato. Certo di proseguire, poi ribadisco, peggio per il PD che colpisce Franco Alfieri, magari anche in maniera non proprio adamantina ma sotto sotto tanti soccondenti, forse pure per invidia, e che colpisce De Luca che per quanto mi riguarda è un presidente di regione uscente con un grande seguito elettorale. E vedremo come andrà a finire, anche perché sulla questione De Luca c'è stata questa proposta di legge che va a modificare anche il limite del terzo mandato, una proposta che sta comunque facendo discutere, pesa in questo contesto il silenzio del PD che ancora non si è espresso in tal senso. Vedremo che cosa accadrà, magari dedicheremo una puntata anche a questo appena avremo il quadro chiaro delle cose. Per ora ringrazio Bruno Mautone. Grazie a voi, un saluto alle spettatrici e agli spettatori di Infocilento. Grazie anche ad Andrea Pellegrino, direttore dell'Ora, e Mario Cirillo, direttore di Agenda Politica che sono stati in collegamento con noi, ad Andrea Giaccio in Regia. Vi ricordo che Palazzo di Città va in onda ogni martedì alle 21.15 sul canale 79 del Digitale Terrestre in streaming su Infocilento.it, poi trovate anche la puntata on demand e poi in replica il mercoledì dopo il TG. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.